Carissimi tutti, carissime tutte, buongiorno, buongiorno, buon 25 di febbraio. Beh, lo dico con un po' di autostima, perché oggi è il mio compleanno, quindi tanti auguri a me, grazie per chi me li farà, sono ben accetti, gli auguri e le benedizioni sono sempre bene accette. Benissimo, in questo giorno del 25 di febbraio, come sempre o come possiamo fare, a volte tutti i giorni, a volte un giorno sì, un giorno no, pubblico il mio nuovo video tutorial per un nuovo rituale da apprendere. In questo caso ho voluto scegliere una figura amatissima, veramente in maniera straordinaria, in Brasile, in America Latina, ma anche penso nella figura cattolica, anche se noi credo che lo conosciamo meno. Ed è la figura di San Giorgio, l'ho messa qui con la sua statuina, San Giorgio, ve la avvicino un attimo, vedete il grande condottiero che sul cavallo bianco con la sua lancia trafigge il dragone, cioè ogni male, ogni negatività, ed è il vincitore, il vincitore di ogni cosa. San Giorgio, o San Giorgio, nella ovviamente forma del pantheon afro-brasiliano, il suo nome è Ogum, Ogum. Ogum è il dio anche del ferro, delle armi, è il guerriero, è colui che vince, è colui che trionfa e poi nei secoli si è trasformato, si è direi non trasformato, è sbagliato, si è sincretizzato con San Giorgio. Quindi anche voi se andate in Brasile troverete spesso e volentieri negli altari la figura di San Giorgio e il vencedor de demanda, cioè colui che spezza ogni male, colui che apre ogni strada alla vittoria. Ricordatevelo bene. Adesso lo rimetto qui tra due candele che poi rappresentano anche i suoi colori, il rosso e il bianco. Benissimo. Allora, voi vedete già dei materiali che non sono per niente complicati, anzi sono semplicissimi, che sono l'offerta da fare a San Giorgio per avere un grandissimo aiuto, una grandissima energia, una grandissima spinta, quando noi abbiamo difficoltà negli affari, abbiamo difficoltà nel commercio, abbiamo difficoltà nel lavoro, nel senso che il lavoro che abbiamo non ci retribuisce adeguatamente, oppure è un lavoro part time, è un lavoro di poco conto, oppure quando non abbiamo proprio lavoro. Perciò questo rituale che oggi andiamo a spiegare è un rituale per tutte le persone che desiderano avanzare nel proprio percorso lavorativo, finanziario, tramite l'intercessione potentissima di San Giorgio che sbaraglia ogni ostacolo. E perciò facciamo a lui una offerta, chiaramente con delle orazioni, ma molto semplici, adesso lo vedrete, in modo che San Giorgio spazi via gli ostacoli, spazi via ogni ostacolo che impedisce la nostra realizzazione lavorativa. Perciò voi pensate alla vostra situazione qualunque essa sia e siate certi che con l'aiuto di San Giorgio gli ostacoli andranno a distruggersi, a sciogliersi. Anche le negatività che possono magari accompagnare il vostro fermo, la vostra problematica, andranno a distruggersi. Perché San Giorgio, ricordate, è anche invocato per esorcizzare, oltre che per trionfare nelle imprese commerciali, economiche, lavorative. Quello che ci serve è una bella mela, prendete una mela preferibilmente rossa, una mela fresca, né più e né meno. Guardate, io l'ho presa dalla mia cantina e la metto qui per voi. E poi procuratevi in casa vostra, oppure andate dal ferramenta per pochi centesimi, prendete due chiodi, due chiodi di ferro, di quelli normalissimi, più o meno di questa lunghezza, non proprio di quelli minuscoli per i quadrettini, due chiodi un pochino tipo 5-6 centimetri. Il chiodo è ferro, il chiodo è semmai anche lega, è metallo. Il chiodo rappresenta la spada e quindi il simbolismo del chiodo è qualcosa che trafigge le difficoltà ed è qualcosa che è collegato proprio a San Giorgio. Il frutto della mela rappresenta l'abbondanza, la prosperità, la vita e il colore rosso è sempre un omaggio a San Giorgio. Come vedete non è difficile, è semplice capire. Quindi come fate? Questo lavoro intanto vi do un primo consiglio utile mentre appoggio i chiodini è quello di farlo nel giorno di San Giorgio o di Ogum che si chiama allo stesso modo. Quindi il giorno qual è? È il martedì, giorno di Marte. In realtà Marte è il dio anche della guerra o perlomeno il dio o l'energia archetipale della forza. Quindi è chiaro che il giorno di Martedì o Terza Fera in brasiliano è il giorno consacrato a San Giorgio. Perciò per avere un effetto più potente sicuramente, fatelo di Martedì questo lavoro. Fatelo nell'orario che preferite perché non ci sono problemi sull'orario, non ci sono nemmeno problemi, guardate, assolutamente sulla lunazione. Come ripeto molte volte, un po' insistentemente, solo per chi vuole veramente farlo in una lunazione crescente o piena, lo faccia in un martedì, magari di luna crescente o piena. Ma come noi sappiamo dalla pratica, dall'esperienza, gli orisha o i santi, più o meno sinonimo della stessa cosa, sono presenti sempre al di là della luna. Quindi sono forze che sono superiori alle fasi della luna. Comunque voi ricordatevi che il lavoro va fatto di Martedì. Vi procurate quindi una bella mela rossa, una delle più belle che trovate al supermercato. Vi procurate due chiodi, come vi ho detto. Non servono candele. Se volete proprio accenderle, farà piacere sicuramente all'entità. Accendete la candela bianca oppure la candela rossa, oppure bianca e rossa. Vedete voi come meglio riuscite a fare in casa vostra. E poi vi concentrate sul vostro problema. Mettiamo che il problema è quello di, primo, di trovare lavoro. Quindi voi non avete un lavoro, state cercando un lavoro e perciò vi dovete concentrare su voi che state trovando lavoro, sulla stretta di mano del contratto, su voi che lavorate attivamente. Quindi guardatevi mentre state lavorando, abbiate immagini veramente positive, come se tutto fosse già realizzato. Oppure se vi mancano i clienti nell'attività, visualizzate voi che contate i soldi, visualizzate la porta con i clienti che entrano. Sempre queste immagini molto positive. oppure se voi fate un lavoro che non vi soddisfa molto, volete salire di grado, volete fare qualcosa di meglio, visualizzatevi a fare quello che meglio vi piace nel vostro lavoro. Visualizzate il vostro superiore che vi dice o vi concede l'opportunità di fare un'altra mansione. Vi sto facendo degli esempi, poi è ovvio che ognuno di voi mentalizzerà il problema personale o meglio il desiderio personale da sottoporre a San Giorgio affinché San Giorgio spazi via ogni ostacolo e vi conceda ciò che voi volete ottenere. Quindi prendiamo una mela, se volete la mettete in un piattino, altrimenti anche no. Io ho messo un piattino per dare più ovviamente l'esempio del lavoro e cosa fate? Vi prendete questa mela e per qualche istante, per qualche minuto, rivolgendovi a San Giorgio, rivolgendovi a Dio, perché a Dio, all'universo va benissimo. San Giorgio concedimi e poi fate la vostra richiesta. Fa che io possa avere un nuovo lavoro al più presto possibile. San Giorgio porta la mia condizione lavorativa a un livello superiore. San Giorgio fa che guadagni di più, fai che possa avere un aumento anche di salario. San Giorgio fa che possa trovare un lavoro migliore oppure fa che il lavoro che io sto facendo mi porti più soddisfazioni e andate avanti con la vostra personale richiesta. Poi cosa fate? Prendete i chiodini di ferro o di acciaio e ne infilate uno a destra nella mela, così, e uno a sinistra. Questo è un atto simbolico molto importante ed è un omaggio a San Giorgio insieme ovviamente al frutto. Quindi la mela con le due spade, direi, perché poi simboleggiano le spade di San Giorgio, infilate. Cosa fate a questo punto con questa mela? Questa mela la tenete in un piattino oppure la tenete anche sopra un pezzetto di carta, vedete voi come meglio, o in una ciotolina, e recitate, attenzione, nove, guardate le mie dita, cinque più quattro fa nove, nove padre nostro, eh? Il padre nostro bene o male lo conosciamo tutti, chi non lo conosce lo può guardare su Google, quindi recitate nove volte il padre nostro in onore di San San Giorgio. Per esempio, caro San Giorgio, amato San Giorgio, San Giorgio, tu che sei invincibile, ascolta la mia richiesta, ti offro questi nove padre nostro. E cominciate, padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, darci oggi il nostro panno in quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E questo lo ripetete nove volte. A questo punto questa mela la tenete in un luogo sicuro della vostra casa, vale a dire in un luogo, come dico sempre, dove non passi gente a curiosare, a guardare. Potete metterla in una mensola, potete metterla sopra un armadio, potete metterla dietro una libreria, dietro dei libri, potete metterla sul vostro comodino. Dipende la situazione familiare che avete, chi vive da solo la può lasciare anche sull'altare, o meglio sul piano di lavoro, ma chi non vive da solo e la maggioranza delle persone metterà questa offerta a San Giorgio per sette giorni in un luogo molto tranquillo. Passato sette giorni voi vi ritrovate ovviamente al martedì successivo. Cosa fate? Il martedì successivo prendete l'offerta, quindi la mela con i chiodi, andate o fuori di casa, ovviamente, o un pochino più in là di casa vostra, e trovato il primo albero vivo, non ha un albero morto, un albero vivo, un albero radicato, un albero che ha le foglie, comunque un albero non secco. Voi prendete questa offerta, la mettete ai piedi dell'albero, recitate altre nove volte il Padre Nostro a San Giorgio, facendo se volete di nuovo la vostra richiesta, anche se l'avete fatta potete rifarla, e lasciate ai piedi di un albero questa mela, così, semplicemente così. Poi tranquillamente ve ne andate e lasciate lavorare l'energia divina di San Giorgio o di Ogum e l'energia universale, e vedrete che avrete dei bellissimi risultati. Fate questo lavoro se avete problemi economici, se avete problemi di lavoro, se avete ambizioni di un lavoro migliore, se siete retribuiti poco, eccetera, eccetera. Credo di essermi spiegata, lo spero, insomma. Quindi, carissime amiche, carissimi amici, con questa bellissima offerta a San Giorgio, io per il momento vi saluto, vi auguro di risolvere il vostro problema il prima possibile, non abbiate fretta, perché la divinità, Dio, i Santi, sanno sempre qual è il momento giusto. A voi buon lavoro, se volete date un like al canale, se volete, se volete, non è che è un obbligo, iscrivetevi al canale per farlo crescere, visto che è un canale ancora piccolino, ma non c'è problema, siamo già una bella comunità. E quindi da Simonetta un saluto, da questo 25 di febbraio ci rivediamo nel prossimo video. Bacione!